Bella regà, siamo qua oggi con un nuovo video, un nuovo episodio di TGIpe che mi devo sbrigare a fare perché come un coglione ho dimenticato di caricare la macchietta fotografica in ogni caso regà, come sempre vi dico sempre di iscrivervi al canale, mettere mi piace, fare tutte le varie cose da youtuber e se mi... se mi volete bene, lo farete questa settimana ci sono state tante notizie, quindi non ho dovuto scegliere alcune in particolare perché sennò sarebbe venuto un video di 25 minuti la prima notizia che riguarda tutti quelli di Milano, apertura del nuovo negozio di patta a Milano in via degli Arciboldi Galleria Unione 4, che non ho idea di che via sia non ne ho la più palida idea, comunque penso proprio che appena tornerò a Milano penso e spero il più presto possibile ci andrò di sicuro a fare un salto e un altro posto dovevo andare assolutamente a fare un salto nuovo che hanno aperto questa settimana è il nuovo negozio di Stone Island, il secondo più grande al mondo, subito dopo quello di Los Angeles quindi è quello più grosso d'Italia, aperto in corso Matteotti 18 scusatemi ragazzi, c'è un bordello sotto casa mia e ho dovuto tenere la finestra aperta sennò prendo fuoco, quindi se sentite un po' di casino mi dispiace il negozio comunque questo qua di Stone Island sembra veramente una figata non vedo l'ora di andarci, chissà se prenderò qualcosa ma questi sono quei posti dove uno va anche solo per sfizio per vedere com'è il posto perché secondo me può essere veramente una figata passiamo adesso alle notizie vere e proprie c'è un sacco di sneakers questa settimana e la prima della lista sono queste Jordan 4 nella colorazione cool grey questa colorazione qua secondo me spacca le Jordan 4 l'ho già ripetuto un miliardo di volte nei miei video sono alcune delle mie scarpe preferite in assoluto minchia l'altro giorno, quando è stato due o tre giorni fa vado a Nizza che è qua vicino dove abito io vado in un negozio, Jordan 4 bread che non avevo preso all'epoca all'epoca, due o tre settimane fa quando sono uscite vado, c'avete il mio numero? No, c'è uno solo o una taglia più piccola o una taglia più grande e quindi me la sono presa nel culo il fatto sta che queste nuove Jordan 4 cool grey verranno rilasciate normalmente il 3 agosto sono veramente una figata non so se le prenderò perché 3 agosto mi pare una scarpa troppo estiva non lo so, sinceramente c'è ancora tempo fino ad agosto ma comunque se le comprate sono veramente una bomba rimanendo in tema di scarpe che sono una bomba che vengono rilasciate fra relativamente poco collaborazione fra Stranger Things e Nike un sacco di gente l'ho vista delusa da questa collaborazione ma sinceramente non mi sarei potuto aspettare di meglio collezione tema anni 80 e le sneakers sono perfette abbiamo le Cortez, Blazer e le Air Tailwind che mi riscordo sempre come si chiamano sinceramente sono fighissime tutte e tre a me fanno impazzire le Tailwind nella colorway bianca quella bianca color crema e rosso con l'interno anche della scarpa blu sinceramente spettacolari quelle là le prendo di sicuro che verranno rilasciate il 27 giugno non vedo l'ora, penso che le rilasceranno tramite l'applicazione sneakers come al solito ormai sta facendo Nike in quegli ultimi anni minchia ma vi pare che ho la fermata del bus sotto casa che fa sto bordello? io come cazzo ci vivo qua? ragazzi stiamo parlando sempre di roba che spacca collaborazione ancora fra Undercover e Nike collaborazione che sfortunatamente non ho preso anche se adesso è ancora disponibile sul sito Nike semplicemente perché in questo periodo sto spendendo troppi io ho tutti questi qua, gli buco le gomme collezione che sfortunatamente non ho preso perché sto spendendo troppo in quest'ultimo periodo e di spendere altri 160 euro per delle ennesime scarpe non c'ho voglia fatto sta, altre color che sono state presentate quelle verdi, quelle rosse e un'altra variante nera verranno rilasciate il 21 giugno quindi anche per queste qua manca pochissimo e secondo me sono tutte fighe quella nera forse è quella che mi piace di meno perché mi ricorda molto quella rilasciata poco fa anche se quella che è stata rilasciata settimana scorsa secondo me era più bella mentre quella verde come accesa spettacolare anche quella rossa col nero una bomba mentre non è una bomba questa prossima collaborazione che avrebbero potuto fare veramente una figata ma invece no Nike in collaborazione con SpongeBob queste Kyrie 5 secondo me sono proprio brutte sia nella versione SpongeBob che nella versione Patrick chi l'avrebbe mai detto che queste scarpe sarebbero uscite? io sinceramente non me le aspettavo anzi non sono ancora uscite ma verranno rilasciate non si sa ancora quando né dove ma cari queste scarpe ce li ha sono curioso di vederle dal vivo ma sinceramente non penso proprio che le prenderò e non sono neanche interessato quelle di SpongeBob già hanno una silhouette cioè la silhouette è sempre la stessa hanno una collore un pochino più carina col giallo secondo me ancora ancora se ne escono fuori con più praticamente i puntini di SpongeBob con quel verde praticamente vomito ancora ancora ma mentre quelle là rosa mortadella veramente no cioè per favore mai immettibili mi dispiace per Patrick ma queste scarpe non ti fanno giustizia continuiamo a parlare di Nike altre scarpe di merda secondo me Air Jordan 1 in collaborazione anzi Air Jordan 1 low in collaborazione con Travis Scott io non sono stato il più grande fan delle Jordan 1 con Travis Scott high e sinceramente queste qua sono proprio brutte queste qua low sinceramente non le prenderei in assolutamente nessun caso ma comunque quelle che interessano verranno rilasciate a settembre ma comunque secondo me su una scarpa così bassa così piccola che sembra quasi delle Nike SB che vabbè abbiamo capito questo swoosh grandissimo reverse così cioè lo trovo veramente di poco gusto e non penso che le metterei mai poi vabbè il logo dietro è figo però niente di più secondo me tornano le Nike Air Force 1 con lo swoosh rimovibile intercambiabile per ora quella che si è vista non mi piace si è vista soltanto una Air Force 1 low black con questa specie di swoosh dorato ovviamente sarà intercambiabile ma bisogna vedere anche quali sono gli altri colori in generale le Air Force 1 nere a me piacciono meno rispetto a quelle bianche però la figata di questo pack rispetto a quello vecchio è che lo swoosh sono due swoosh diversi dalla parte destra alla parte sinistra nel senso che prima era uno swoosh unico che si riuniva dai due lati non so se mi sono spiegato comunque se avete visto le scarpe vecchie dello swoosh pack che mi pare un anno e mezzo fa avete presente di quello che sto parlando mentre così secondo me ci sono possono fare le idee più carine magari mettere uno swoosh di un colore da un lato e di un altro dall'altro non lo so spero solo di vederle anche bianche queste scarpe e anche di vedere quali sono i restanti colori degli swoosh intercambiabili perché questi qua dorati secondo me sono assolutamente bocciati per ora comunque non si sa quando verranno rilasciate quindi se vi interessa iscrivete al canale e mettete la campanellina notizia che può interessare tantissime altre persone Yeezy 700 Wave Runners a parer mio la colorway più bella di questa scarpa è probabile è possibile che verrà ristoccata prima della fine dell'anno sarebbe l'ennesimo restock da parte di Yeezy ma meno male tanto Kenny West l'ha detto che non ha più intenzioni di fare scarpe eccessivamente limitate e che vuole che tutti abbiano le scarpe secondo me queste 700 qua sono belle rispetto a tutte le altre sono veramente un gradino superiore anche queste qua quindi se volete sapere ulteriori novità in futuro iscrivetevi DJ Khaled in collaborazione con Jordan Six e Paris Saint Germain vaffanculo DJ Khaled non vi parlo neanche della notizia dopo tutto quello che ha fatto a Tyler che se l'ha presa a bomba Rosiconi votate Igor ragazzi vaffanculo DJ Khaled col cazzo che ti sponsorizza le scarpe anche se non penso che tu ne abbia bisogno vaffanculo dai a parte gli scherzi queste scarpe che non sono male se devo essere sincero verranno rilasciate a luglio non si sa ancora quando qui comunque manca ancora un mesetto circa se no verranno rilasciate verso la metà luglio la colorway non è male il modello è carino quindi se volete copparle ve lo sconsiglio perché sono di DJ Khaled ma che ci possiamo fare? still in the meeting still in the meeting still in the meeting l'ultima notizia che è quella che metto sempre alla fine un accessorio stronzo di qualche brand famoso in questo caso cappellino tipo bucket hat di Gucci che secondo me è figo costa tanto costa tipo 440 dollari ma meglio 440 dollari per questo che di tantissime altre stronzate che vi ho fatto vedere qua a fine puntata tipo le catenine quelle da fatti di Virgila Blu con le graffette o non mi ricordo altra roba tipo il piece di Palm Angels non mi ricordo sinceramente però questo qua è super figo me lo metterei a bomba soprattutto per l'estate spettacolare non so se ci andrei spiaggia ma comunque come idea questo qua è veramente figo e anche realizzato bene in ogni caso le notizie per questa settimana finiscono qua io vi ringrazio che è arrivato fino alla fine del video scusatemi se l'ho fatto un po' di corsa ma come vi ho detto non ho più batteria ci vediamo prestissimo con nuovi video penso che ne riascerò altri due questa settimana se li riesco a montare già li ho registrati uno è praticamente di Igor che parlo di Igor ma è il terzo o quarto che registro e nessuno mi convince quindi non so se lo riregistrerò ancora o meno e l'altro invece praticamente parlo di un nuovo mall che hanno aperto a Sanremo di praticamente outlet di brand di alta moda figo comunque ve ne parlerò meglio penso dopo domani comunque ci vediamo prestissimo io vi voglio bene siete i miei fratellini bella seguitemi su Instagram